Se penso alla mia esperienza personale, molto spesso mi meraviglio. Io sono partito dallo studio di cellule in vitro, di cellule tumorali in vitro, per vedere quali molecole fossero utili a queste cellule per correggere il loro comportamento deviante e patologico. Dallo studio di queste cellule in vitro e di queste molecole somministrate a queste cellule sono arrivate a conclusioni ben più importanti e significative, che all'origine della vita e della biologia c'è il senso e che l'informazione è quella che determina le patologie della vita stessa del nostro organismo come una patologia più grande quella dell'universo. Quindi all'origine di tutto della vita e del mondo esiste questa informazione e la malattia è vista come una patologia di questa informazione. Come sono arrivato a queste conclusioni? Sono arrivato appunto studiando le interrelazioni che esistono tra le cellule tumorali e l'organismo che è ammalato di cancro. In questo organismo queste cellule hanno perso il senso, sono andate per una via diversa, distruggono l'organismo in quanto il significato che esse hanno mantenuto è quello di organizzare per conto proprio una vita che invece non possono organizzare. Perché questo avviene? Perché le cellule tumorali sono cellule staminali e sono cellule dunque embrionali che sono lì per costruire una vita ma loro non sono in grado poi di costruire un nuovo essere, sono in grado invece di moltiplicarsi e basta distruggendo l'essere di cui sono ospite. Loro hanno mantenuto questo significato e non hanno altri significati. Se noi riusciamo a dargli un'informazione diversa e a correggere questa loro informazione sbagliata che è alla base, loro riescono a recepire questa informazione, a correggere il loro comportamento e a normalizzarsi. E qual è questa corretta informazione che devono ricevere? È l'informazione che le cellule staminali nel momento in cui loro si differenziano nell'embrione possono dare a queste cellule tumorali che sono molto simili alle cellule staminali. Dunque se noi diamo l'informazione corretta a queste cellule tumorali che sono le molecole che differenziano in pratica le cellule staminali, anche le cellule tumorali capiscono il significato di questo messaggio e si differenziano. Dunque vita, informazione, cellule, organismo fanno parte di un unico sistema che è un sistema olistico in cui l'informazione viaggia allo stesso modo.